Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma quanto segue. Poiché, siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque, per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori. Chi è questo solo uomo la cui disubbidienza ha prodotto appunto ciò, cioè il fatto che molti siano stati costituiti peccatori? E' Adamo. Adamo, il primo uomo, per mezzo di lui, infatti, il peccato è entrato nel mondo. E, naturalmente, con quel peccato la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è quanto dice la Sacra Scrittura. Dunque, questo è quello che è avvenuto, diciamo, a cagione della disubbidienza di Adamo, in quanto il Dio gli aveva dato un ordine che era appunto questo. Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare. Perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Aveva ricevuto quest'ordine, quindi, di non mangiare quel particolare frutto. Il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ma Adamo disubbidì. Adamo disubbidì e, per mezzo appunto della sua disubbidienza, in sé molti sono stati costituiti peccatori. Però, la scrittura dice anche che per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Questo uno solo, la cui ubbidienza ha fatto sì che molti siano costituiti giusti, è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che il Padre ha mandato nel mondo, nella pienezza dei tempi, e, infatti, Gesù ha eseguito un ordine che aveva ricevuto da lì Dio e Padre suo. Fu Gesù stesso a parlare di questo ordine quando disse «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla». Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi, Gesù Cristo ricevette l'ordine da parte di Dio e Padre suo di deporre la sua vita, come anche di ripigliarla. In virtù, quindi, della sua morte e della sua resurrezione, avvenuta tre giorni dopo la sua morte, ecco che, appunto, l'uomo che crede in Lui viene costituito giusto, cioè viene giustificato. Che cosa significa l'uomo che crede in Lui? Significa l'uomo che crede che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparva ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Perché questo è l'Evangelo di Cristo nel quale l'uomo deve credere per essere giustificato, per essere costituito giusto. Infatti, è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Dunque, l'uomo viene costituito giusto o giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, affinché nessuno, affinché l'uomo non si glori. Quindi, la giustificazione è per grazia, mediante la fede. Ecco perché è scritto che il giusto vivrà per la sua fede, così come è scritto nel libro del profeta Abba Cucca. Dunque, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio che si basa sulla fede. La giustizia che viene da Dio, appunto, basata sulla fede. E questo, naturalmente, fa sì che l'Evangelo sia potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi, considerate la potenza dell'Evangelo. È potenza di Dio. Tenete bene a mente queste parole. L'Evangelo non è una parola qualsiasi. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Perché è parola di Dio vivente, permanente e, appunto, credendo in essa, nella parola di Dio, appunto, l'uomo viene salvato dai suoi peccati. Quei peccati che contaminano la sua coscienza, quei peccati che lo dominano. Perché, appunto, egli serve il peccato. E, appunto, nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo viene salvato, affrancato dal peccato e i suoi peccati gli vengono cancellati grazie, appunto, al sangue prezioso di Gesù che egli sparse sulla croce per la remissione dei nostri peccati. Dunque, la giustificazione che dà vita l'ha procurata Gesù, il figlio di Dio, ubbidendo all'iddio e padre suo. Quindi, è gratuita la giustificazione che dà vita. Non si ottiene per opere giuste e compiute. non si merita. Si ottiene solamente, esclusivamente per la grazia di Dio e, infatti, si ottiene mediante la fede. Ecco perché vi proclamo che il giusto vivrà per la sua fede. Quindi, ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo affinché, credendo in essa, siate giustificati, costituiti giusti. perché allo stato attuale delle cose siete dei peccatori, siete dei nemici di Dio. L'ira di Dio è sopra di voi. Se moriste in questo momento senza Cristo andreste all'inferno, andreste in perdizione perché è lì che vanno i peccatori. Per quello vi esorto a ravvedervi e a credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo perché nella buona novella è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Sappiate che le cose avvengono come la scrittura dice perché la scrittura è la parola di Dio vivente e permanente. Se c'è scritto il giusto vivrà per la sua fede sappiate che è così. Io che vi parlo ho sperimentato la giustificazione che dà vita quando ho creduto nell'Evangelio il Signore mi ha giustificato. e quello appunto che il Signore ha fatto in me è quello che appunto è l'adempimento di quello che dice la Sacra Scrittura per quello che sono fiducioso nel Signore pienamente fiducioso e nel momento in cui vi ravvederete crederete nell'Evangelo il Signore vi giustificherà il Signore vi giustificherà e quindi non sarete più sulla via della perdizione ma sarete sulla via della salvezza non sarete più su quella via che mena all'inferno ma sarete sulla via che mena in cielo nel Regno dei Cieli in Paradiso dove appunto coloro che entrano si riposano dalle loro fatiche però appunto vi devo avvertire perché se rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati Gesù l'ha detto chi non avrà creduto sarà condannato condannato capite cosa significa? cioè quando morrirete spirerete e l'anima vostra se ne andrà all'inferno in questo luogo di tormento dove esiste un fuoco un fuoco un vero fuoco e nel quale sarete tormentati quindi sappiate che state andando incontro a una orribile fine una terribile fine tutte le sofferenze che un uomo può diciamo patire sulla faccia della terra non sono assolutamente paragonabili a quelle che patisce una volta che muore senza Cristo ossia che muore nei suoi peccati e va all'inferno all'inferno veramente c'è il tormento c'è un tormento continuo in mezzo al fuoco ecco perché vedete Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori sì questa è una parola certa degna di essere accettata questa è la verità Gesù Cristo il figlio di Dio è il salvatore del mondo il padre lo ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo infatti egli ha compiuto mediante il suo sacrificio lui il giusto caricandosi dei suoi dei nostri dei nostri peccati egli che cosa ha compiuto egli ha compiuto un'opera di redenzione di espiazione perfetta perfetta e quindi adesso chi crede in lui viene giustificato costituito giusto non è meraviglioso questo sì è meraviglioso chi vi parla ve lo proclama con ogni franchezza è una meraviglia e appunto nel momento in cui quindi crederete nell'Evangelo non vi sentirete più dei peccatori sulla via della perdizione con l'era di Dio sopra la propria testa ma vi sentirete appunto dei giusti vi sentirete dei giusti lavati imbiancati nel sangue dell'agnello redenti che è appunto sulla via della sulla via della salvezza e avrete la certezza la certezza che quando morirete morirete nel Signore e vi dipartirete dal corpo per andare ad abitare con il Signore nel regno dei cieli quindi ravvedetevi credete nell'Evangelo il Signore avrà misericordia di voi vi salverà vi perdonerà vi giustificherà e vi darà la vita eterna chiarecchi da udire oda di voi vi salverà vi salverà vi salverà vi salverà Grazie.